Ciao, bentornato al programma tv di oggi con notizie come, a quanto pare, dopo tantissimi rumors e tante indiscrezioni è arrivato il momento per la coppia formata da Elodie di Andrea Iannone di uscire definitivamente allo scoperto. La cantante e il pilota non si nascondono più, i fan sono rimasti senza parole, per la grande emozione suscitata dalle recentissime immagini, diffuse dall'artista di La Coda del Diavolo. Elodie e Andrea Iannone sono apparsi più uniti che mai e non era mai successo fino ad ora che lei condividesse con il pubblico un gesto così romantico. Scopriamo la foto che sta diventando virale, tra una smentite conferme, si è parlato tantissimo negli ultimi mesi della neonata storia d'amore, tra Elodie Patrizzi e Andrea Iannone. In realtà, lei aveva rilasciato un'intervista in televisione a Verissimo, nel corso della quale, aveva confermato di conoscere bene il pilota e che tra di loro era cominciata una speciale frequentazione. Ma era la fine di settembre, si vedevano solo da un mese e pertanto lei non si era sbilanciata, perché aveva detto che la loro relazione era appena iniziata, e che non aveva idea di come sarebbe potuta proseguire. Poi non tanto tempo fa, i due sono stati tipo paparazzati insieme mentre facevano una passeggiata romantica. Solo pochi giorni fa, il noto pilota della MotoGP aveva pubblicato tra le stories del suo account ufficiale di Instagram, un video che mostrava proprio la cantante della coda del diavolo in bici. In verità, Elodie e Iannone erano intenti a godersi il tempo libero del fine settimana e si erano concessi una pedalata all'aria aperta. I fan della neonata coppia dunque erano pronti ad accogliere una notizia così bella ma ancora non avevano mai visto quello che è apparso sui social per la prima volta nelle scorse ore. A quanto pare adesso, dopo tantissimi rumors e tante indiscrezioni diffuse nei mesi scorsi, è arrivato il momento per loro di uscire definitivamente allo scoperto. In realtà non è la prima volta che i due appaiono insieme ma poche ore fa è accaduto qualcosa che fino ad adesso non era mai successo. Complice forse a fine della nota relazione della cantante con il rapper Marrakesh, al quale è stata legata per ben due anni Elodie non si era mai esposta così come ha fatto adesso. Nelle scorse ore tra le stories del seguitissimo profilo di Elodie Patrizia è apparsa un'immagine che difficilmente potrà essere dimenticata dai fan. Andrea Iannone che le dà un bacio, mentre lei ha gli occhi sognanti. Si tratta della prima foto in cui è immortalata in compagnia della sua nuova fiamma, che a questo punto è il suo partner ufficiale e ha deciso di mostrare sul noto social fotografico. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.